salve care amiche e cari amici come ogni anno anche quest'anno 2019 il vostro san ten chan vi augura delle buone prospere felici pasque e mi raccomando che la pace sia con tutte e tutti voi io continuo a fare dei video anche se per il momento youtube non mi ha ridato la monetizzazione quest'anno poi non mi posso filmare con luogo di cioccolato metterò tra i video consigliati e tra le anteprime tutti i miei video nei quali vi augurato per questi ultimi sei anni di avere buona pasqua mi raccomando passatela bene buona pasqua tutte e tutti grazie di seguirmi grazie ai nuovi iscritti grazie a quelli che mi seguono anche senza iscriversi però mi raccomando sempre voi mi dite a che bei video fai santo chan che bravo che sei e io vi ringrazio però voglio dire fraldire il mare c'è di mezzo il mare fraldire il fare poi mi dite sempre che bei video che fai eccetera però non li condividete in questo modo non aumentano le visual dei miei video quindi mi raccomando per favore se potete se apprezzate i miei video commentateli dategli like ma soprattutto condivideteli in modo che anche altri possano commentare i miei video perché anche questo c'è che a me mi piacerebbe che anche altre persone commentino i miei video non soltanto voi dicendomi che bei video che fai ma come commentateli condivideteli e dategli like o dislike in modo che anche altri abbiano l'opportunità di commentare i miei video e di condividerli in questo modo io prima o poi potrò comprarmi di nuovo una filmatrice perché dovrei riparare quella vecchia ma l'ho già riparata due volte e del 2010 gli si è rotto il flessibile e quindi ormai è vecchia è inutile sprecare soldi in quella filmatrice se youtube mi pagasse allora vi ringrazio di seguirmi in questo giorno questa domenica che credo sia oggi pasqua visto che io non ho accesso ancora la televisione ho ascoltato per radio che c'è stato il blackout l'ennesimo blackout di facebook instagram e twitter io questa mattina non sono entrato in instagram niente poi dovrò fare dei video ma vedo che con questa applicazione per cellulare vengono meglio che filmandomi con il mio vecchio nokia asha 302 che adesso non ho con me perché questa applicazione gli da un formato 720 x 8 non so che cosa e poi io con il computer lo edito il video a full hd e gli do questo formato verticale però adesso sto firmando 3 a 4 o 4 a 3 no 3 a 4 3 di largo e 4 di alto gli ultimi video invece li ho fatti a 16 per 9 verticali e adesso lo faccio verticale 3 a 4 perché consiglia mi viene meglio adesso mi si sta muovendo il braccio comunque viene un video troppo largo non posso passare 5 minuti con questa applicazione gratuita ora pasqua tutte e tutti scusate il tremore del video ci vediamo al prossimo video poi mi raccomando guardate i video consigliati di tutti gli auguri passati di buone pasque negli ultimi sei anni e cercate di guardare quanti più video mi è possibile di commentarli lasciate gli like e condivideteli mi aiuterete moltissimo ciao ciao buona pasqua probabilmente non diterò con quella voce robotica che piace tanto alla nostra caro amica ciao buona pasqua e non saluto tutti gli altri perché lo farò nel commentario mi scorda qualcuno poi poi si offentano ciao molto più l'occhi alessandro arcangeli lasciate nel vostro commentario gli auguri di pasqua che io contaccambio ciao